Emma Watson, è lei la celebrità più ispiratrice, ecco i motivi Tutti la conoscevano come la piccola maga della saga di Harry Potter, ma ora Emma Watson è molto più di questo. . Negli ultimi anni, malgrado la sua giovanissima età, si è mostrata in prima linea come attivista per i diritti delle donne, lottando contro il sessismo e l'omofobia. . 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